Penultimo appuntamento a Lodi con la stagione di chitarra classica che è il prossimo ospite nell'ambito di Lodi al Sole Quest'anno abbiamo la fortuna di ospitare anche Marco Topchik il chitarrista ucraino virtuoso veramente dallo strumento che suonerà in una location meravigliosa che è la Chiesa di Rincoronata aspettiamo tutti gli appassionati e i non appassionati al nostro concerto che si terrà alle 17.30 presso appunto la Chiesa dell'incoronata il programma sarà molto variato il programma che ci permetterà di far conoscere a chi non conosce la storia della chitarra classica con parti veramente virtuosistiche vi dico solo che termino il concerto con due cose veramente da funambolo le variazioni sul carnevale di Venezia di Tarrega e il capriccio diabolico di Castelmovo tedesco